dove l'ho messo? oh, salve aveva prenotato un intervento con me ah, sì, sì, giusto mi ricordo possiamo darci del tuo intanto? perfetto allora, dimmi per quale motivo sei qui? e come posso aiutarti? ah, la mente non sta più funzionando come prima ma che cosa succede in particolare? ah, pensieri ricorsivi brutti pensieri ho capito beh, guarda ti dirò non è infrequente che questo accada in questo momento purtroppo il periodo influenza negativamente un po' tutti ci sono diverse persone che vengono da me proprio per farsi aggiustare i pensieri beh, da quanto tempo hai questi sintomi? ah, ho capito beh, allora direi che siamo assolutamente in tempo per intervenire diamo una controllatina generale d'accordo? perfetto allora, innanzitutto vieni più vicino ho bisogno di capire quale sia il problema e poi utilizzerò i miei attrezzi per sistemare la situazione allora vediamo oh, sì, sì, sì eccolo è qui angoscia e paura ho trovato il problema per fortuna è abbastanza semplice da risolvere però ho bisogno innanzitutto di questo cacciavite e di dove è il mio martello oh, no non preoccuparti non ti farò male beh, intanto allentiamo la vite che sta proprio qui sotto ecco oh, magari un po' più così ho le e una poi vediamo direi anche questo forse forse servirebbe un po' d'olio ok ce l'abbiamo fatta poi poi ah, sì mi servirebbe un piccolo stop forse questo potrebbe essere della giusta misura vediamo se ah, sì è il mio martello e adesso allora ti chiedo durante questo intervento di cercare di non pensare a niente so che è difficile ma mentre ci proverai emergeranno dei pensieri che andrò ad estirpare eh, sì devo impiantare l'idea positiva prego vai oh ottimo questa è andata bene poi 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 ho visto che c'è una sezione qui che va un po' aggiustata sì quando si allentano i bulloni purtroppo è facile che accada qualcosa di questo tipo e siamo più esposti all'intrusione dei cattivi pensieri hopla fatto allora beh hai un chiodo fisso? ma chiodo scaccia chiodo quindi noi adesso andiamo a scacciare il chiodo di prima con quest'altro che se non è rova è impiantato proprio qui ecco l'altro chiodo l'abbiamo eliminato sono molto soddisfatta sono molto soddisfatta vediamo qui c'è qualcosa che non dovrebbe esserci questo filo andiamolo a tagliare non è semplicissimo ci siamo riusciti via no non abbiamo ancora finito ma siamo già a buon punto allora direi innanzitutto dobbiamo togliere un po' di polvere ti avverto potresti sentire un leggero solletico è la zona del cervello ovviamente qualcosa tipo così ma senza il suono proviamo ecco ecco mangio che ci siamo puliamo pure gli occhi ecco qui puliamo è rimasto ancora un po' di sporco dei cattivi pensieri e voilà è tutto pulito adesso come nuovo adesso è necessario saltare bene questa giuntura ok non vedo bene ecco perché c'è qui questo oh 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 cosa ho trovato eh ho trovato la fonte del problema sarà un po' difficile eliminarla tutta ma vediamo se riesco ecco vedi era questa eh no ce n'è dell'altra purtroppo ecco 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 un'altra mettiamola via insieme a questa eh credo ce ne sia ancora un po' la vedo che si muove lì aspetta aspetta guarda quanta tutta questa sporcizia provocava l'inceppamento del meccanismo eh ma adesso è tutto completamente risolto ora andiamo a richiudere allora qui mettiamo una vita un po' più piccola ok ok si ho già da fare una piccola saldatura spero non ti dispiace no no utilizzo la colla a caldo si allora siamo pronti ecco qui la colla a caldo è fantastica come no funziona sempre basta attendere pochissimi secondi dovremmo esserci ottimo allora questo questo è un pezzo in più lo possiamo anche togliere e beh per finire applichiamo un bel cerotto con il nastro adesivo ovviamente ecco qui un ottimo lavoro sono fiera di me vediamo se c'è ancora qualcosa no non mi sembra vuoi che conservi per te la sporcizia dei pensieri e qualcuno la vuole conservare non so per farci cosa oh si si ce l'ho di tantissimi colori e ogni cliente ha una spazzatura diversa all'interno della propria mente oh quasi dimenticavo questi elettrodi e purtroppo servono sono molto molto importanti per monitorare l'attività cerebrale nei prossimi giorni l'importante è che torni da me domani in modo che io possa controllare i risultati di questo esame va bene quanti fili questo lo mettiamo qui e questo qui al lato bene allora ci vediamo domani per il pagamento non preoccuparti faremo tutto domani ma si si l'importante è che tu stia meglio vedrai funziona sempre ciao ah non dimenticare questo ciao adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della fairy crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte ciao